L'Agenzia delle Entrate giustifica i commercianti metelliani interessati negli ultimi due anni da un considerevole calo delle vendite causato dai cantieri aperti su piazza Abruestad e Limitrofe. A disposizione degli esercenti e dei possessori di partita IBA, uno studio di settore per evitare che l'evidente contrazione dei ricavi desti l'attenzione dell'Agenzia delle Entrate. E' il risultato questo del tavolo di lavoro tenutosi nei giorni scorsi presso l'Osservatorio regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate presentato a Palazzo di Città. Una sinergia a favore degli esercenti del centro storico che ha visto interessati i rappresentanti locali e regionali della Confesercenti e l'assessorato alle attività produttive retto da Enrico Bastolla. Queste attività commerciali interessate dai lavori pubblici 2014-2015 sono state effettivamente interessate da un abbattimento dei propri corrispettivi. L'Osservatorio regionale degli studi di settore di cui fanno parte il direttore regionale e un altro dirigente dell'Agenzia delle Entrate e le categorie hanno visto minuziosamente perché nei dettagli questa relazione effettivamente hanno dovuto constatare che la città è stata bloccata per il 2014-2015 via Cuomo, via Castaldi, via della Resistenza. Sono stati interessati e quindi inevitabilmente hanno avuto un riflesso sulla loro normale svolgimento dell'attività. Intanto contestualmente è stato presentato lo sportello impresa che verrà attivato entro un mese presso gli uffici URP del Comune. Entro 30 giorni speriamo di dare il via allo sportello impresa. Qui il Comune ci ha dato la possibilità di avere una sede proprio all'interno della struttura stessa e quindi speriamo con questo strumento di essere sempre più vicine alle esigenze delle attività imprenditoriali. Noi metteremo in campo da subito chiaramente tutti i servizi che offriamo come sportello impresa, dalle convenzioni che noi abbiamo a livello nazionale, a livello provinciale per i nostri associati che chiaramente possiamo estendere a tutte le imprese che ne vogliono usufruire. E poi l'accompagnamento al credito che è comunque sempre fondamentale per le imprese e quello per quanto riguarda gli strumenti di finanza ordinaria che per gli strumenti di finanza agevolata. E poi aiutare le imprese nella fase dello start-up per tutta la documentazione che gli serve e noi li faremo in ogni caso da supporto. Grazie.